Calcio di punizione, c'è Gianluca numero 8, rete, rete, direttamente sul calcio di punizione, Gianluca Malbone ha realizzato la terza rete momentanea, 3 a 1 a nostro favore. Il 13 esce il 3. Adesso Mr. Gabriele provvede all'ennesimo campio, entra Bartolo con il numero 13. E l'altro che deve uscire? Andrato il 13? E' uscito Emanuele Caporale, c'è stato un doppio campio, è uscito anche Matteo, è entrato Daniel, l'arbitro riprende il gioco, 3 a 1 a nostro favore. 3 a 1 giusto perché il quarto è stato annullato. Adesso ci sarà l'esordio del baby calciatore, il numero 18, Cristiano Fattore si appresta a entrare. Piano, 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 calci, fatti bene.